Oggi qui è presente l'intero paese di Cerquedo per denunciare le notevoli disparità di trattamento che questa amministrazione ha riservato agli unici due paesi del suo territorio. Il sindaco dovrebbe essere il sindaco di tutti, anche di un paese che non lo ha votato. In questi tre anni invece la sua amministrazione è stata molto parziale nelle scelte ed abbiamo dovuto lottare sempre per ottenere almeno il minimo sindacale. Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa ottenuto a dicembre hanno deciso, senza coinvolgere minimamente la minoranza, che in pratica rappresenta il paese di Cerquedo, di utilizzarne oltre il 98% a Fano e appena il 2% a Cerquedo. Questo nonostante a Cerquedo esista il problema della via principale del piano, che presenta perdite di acqua dalle condutture, che fuoriesce nelle cantine delle case sottostrada e nonostante la ASLA abbia intimato di effettuare con estrema urgenza i lavori di ripristino della conduttura, anche per ragioni igienico-sanitarie. Invece hanno scelto di fare lavori che non hanno la stessa priorità emergenziale e rimandare quanto prescritto dalla ASLA. Dopo questa manifestazione ci attendiamo che il sindaco cambia atteggiamento e che si ricordi di essere il sindaco di tutto il territorio comunale.